Abbiamo fin qui portato due esempi concreti di stampa, ma quale il panorama della stampa scritta in Svizzera? Abbiamo visto che la crisi del settore ha portato a molte fusioni e a un rischio di monopolio. Ce ne parla allora Natascia Fioretti, giornalista nonché responsabile del corso di giornalismo della Svizzera italiana e anche rappresentante del mondo del giornalismo ticinese. Prego, benvenuta. Allora, buon pomeriggio a tutti. Grazie per l'invito a Möbius e ad Alessio Petralli in particolare. Come avete visto già dagli interventi precedenti, non è facile condensare la complessità del periodo in pochi minuti. Ci proverò anch'io, spero di riuscire a stare nel tempo. Il titolo, la biodiversità della stampa scritta in Svizzera, pericoli di monopolio. Se oggi di monopolio in Svizzera non si può parlare, si può però certamente parlare di pochi attori che dominano il mercato. È ciò che di fatto vediamo e succede oggi. Se guardiamo alla Svizzera abbiamo pochi grandi gruppi. Abbiamo Rinje, Zeha Media, Axel Springer, il gruppo NZZ, TX Group che è Extra Media. Se guardiamo alla Svizzera italiana abbiamo due grandi gruppi privati, il gruppo del Corriere del Ticino e l'editore Salvioni. Ma torniamo un attimo a Tamedia, perché ci dà un esempio significativo di come oggi molto spesso si muove il mercato. Un grande gruppo acquisisce due testati locali come Dea Bund e di Beana Zaito. Assicura che nulla cambierà, non salteranno posti di lavoro, viene garantita l'indipendenza, l'autonomia giornalistica della redazione e naturalmente i contenuti. Qualche tempo dopo tutto è dimenticato. Si annunciano piani di risparmio, saltano 20 posti a tempo pieno, posti operativi, naturalmente i quadri non si toccano, le redazioni vengono accorpato e addio al modello pernese che vedeva due testate della stessa città garantire una certa diversità di opinioni della Regione e dimostrare un forte radicamento sul territorio. Elementi fondamentali in Svizzera dove naturalmente il giornalismo locale e di prossimità è fondamentale. Ma i vertici rassicurano subito i lettori. Nulla cambierà, si continueranno a garantire qualità e indipendenza giornalistica. Non sono d'accordo i giornalisti. I giornalisti dicono come può una redazione molto più piccola, responsabile di due giornali e due portali internet, produrre contenuti diversificati. E dicono i lettori in questo modo vengono presi in giro. E' chiaro che meno redazioni, meno indipendenza, meno giornalisti, meno risorse significa più omogeneità nei contenuti, minore diversità delle opinioni, meno firme, meno contenuti nel numero e meno contenuti originali. Vale a dire che i lettori si ritrovano negli stessi articoli pubblicati, su più testate. Dunque la stessa intervista di un'autrice importante o di un personaggio importante, il mercoledì mattina la troviamo sul Taghi, sul Berner Oberlander e sul Langel Tala Tagplat. Vedrete che la mia relazione va per punti chiave. Allora il primo punto chiave, ne abbiamo parlato ora, era la concentrazione mediatica, il secondo è la pressione. Di questo abbiamo già parlato prima, ne hanno già parlato prima gli altri relatori. Dunque i gruppi e le testate soffrono di grandi pressioni economiche, date dal calo della pubblicità, dal calo degli abbonamenti, dalla corsa ai click, dalla conquista soprattutto del pubblico giovane. E si è aggiunta in questi giorni, questo l'ha già detto pari dei pelli, anche la crisi della carta che ha anche aumentato i costi di produzione. Proprio la NZZ l'altro giorno in un articolo avvisava i propri lettori. Diceva guardate che da mercoledì noi stamperemo meno pagine, troverete dunque il giornale più snello. Punti chiave, parole chiave che vi do come tessere di un puzzle, per cui poi dopo potrete ricomporre il vostro quadro. Pandemia, anche di crisi pandemica si è parlata, si è parlato. Sicuramente la pandemia ha accelerato la crisi che era già in corso, dando una spallata ulteriore ad un modello di business che evidentemente si è rotto. Ad aver sofferto in modo particolare sono stati i gratuiti, gratuiti che in particolare vivono della pubblicità. Per fare un esempio, Tamedia nei primi sei mesi del 2020 ha perso 109 milioni di franchi e la testata più colpita è stata proprio 20 minuti. D'altra parte però la pandemia che cosa ha portato? Il grande paradosso ha portato nuovi lettori, in molti casi anche nuovi abbonamenti. La sfida ora sarà tenerli. Qui vorrei aprire una breve parentesi. In fatto di media e non solo, gli Stati Uniti spesso anticipano le tendenze. Pointer.org ha appena pubblicato i risultati di uno studio dal titolo News Deserts and Ghosts Newspapers. Will local news survive? Sopravviveranno le news locali? In questo rapporto, in questo studio, ci dice che dall'autunno del 2018 hanno chiuso i battenti ben 300 testate locali e 1800 comunità, qui già ritorna la parola comunità, oggi sono senza il loro giornale di riferimento. Penelope Muse Abernethy, autrice dello studio, racconta come la pandemia da un lato ci abbia rammentato l'importanza vitale delle notizie, ma ci dice anche che attualmente le testate locali, piccole e grandi, devono confrontarsi con una terribile crisi economica che minaccia la loro esistenza. Però la chiave è che vi dirà poco. Taz. Taz sta per The Tagest Zeitung. È una testata berlinese con diffusione sovraregionale che dal 2011 ad oggi ha iniziato a fare dei calcoli molto precisi sulla sua sopravvivenza. Karl Heinz Ruch, infatti, rendendosi conto ben dieci anni fa che alcuni dati del giornale non erano incoraggianti, ha deciso ad elaborare un piano B. Un piano B che, secondo le previsioni, dovrebbe entrare in forza. L'anno prossimo staremo a vedere. Dunque, per farla breve, nel momento, lui diceva, in cui le spese postali dovessero aumentare, così come ad esempio il costo della carta, nel momento in cui il calo pubblicitario raggiungerà il punto di non ritorno, noi non usciremo più quotidianamente in edicola. Noi avremo una versione digitale quotidiana e avremo una versione stampata soltanto per il weekend. Vi dicevo, lo switch è previsto per il 2022, staremo a vedere. Altra parola chiave è la precarietà. Diversi studi in Svizzera ci dicono che i salari dei giornalisti sono fermi da 14 anni. Questo è importante quando oggi si pensa sempre che si vuole garantire la qualità. Nella Svizzera tedesca e nella Svizzera italiana manca un contratto collettivo di lavoro da quasi 20 anni. Dal 2006 ad oggi gli onorari e i compensi dei giornalisti freelance hanno subito un importante calo. Il mercato del giornalismo, inutile nasconderci, è sempre meno attraente. Sempre meno giovani scelgono questa professione e per chi ci lavora è un attimo cambiare. Un esempio per tutti, Patrick Foyce, dopo 30 anni a Tamilia, quindi un gruppo grande, e dal 2015 direttore del Bund, una volta presi i piani della proprietà di voler fondere, di voler unire, le due redazioni di Bund e Bernard Zeitung, a 54 anni ha dato le sue dimissioni. Altra parola chiave, qui mi sembra quasi di parlare di un piccolo politico svizzero, è Republik, perché di politico prima ha parlato Luca De Biase. Nel 2017 Republik ha lanciato la sua campagna di crowdfunding con uno slogan molto semplice. È tempo che i giornalisti si rendano indipendenti e il giornalismo si renda libero dai grandi editori. E per fare questo dobbiamo creare un nuovo modello di giornalismo e dobbiamo farlo insieme. Da notare che entrambi i fondatori di Republik provengono da due testate cartacee affermate. Sono Konstantin Zeipt, che proviene dal Taghi, e Christoph Moser, dalla Schweiz am Sonntag. Il successo di quella campagna ha fatto storia, sono stati raccolti ben 3 milioni di franchi, non era mai successo prima, e la partenza di Republik è stata una partenza col botto. Non si può dire diversamente. Ma nel 2019 c'è stato il primo momento di crisi. Infatti in una newsletter veniva annunciato i lettori e i editori, a quel tempo erano 19 mila, che se non fossero arrivati nuovi abbonamenti, nuovi abbonati, e se non si fossero trovati 2,2 milioni di franchi, la testata nel marzo del 2021 era destinata a chiudere. Poi è arrivato il Covid. E' arrivato il Covid e tutto si è risolto. Republik nel 2020, nell'anno della pandemia, ha raggiunto 29 mila lettori e registrato un attivo di 1,1 milioni di franchi. Stiamo parlando di una testata soltanto digitale, digital only, che naturalmente produce, offre anche contenuti multimediali e servizi di vario tipo, e soprattutto una testata senza pubblicità. Fa sorridere tra l'altro che proprio pochi giorni prima che Republik rendesse noti questi numeri, la Neue Searcher Sighting, in un articolo dedicato al pacchetto di aiuto ai media, approvato in giugno dal Parlamento, di cui poi saremo chiamati a decidere l'anno prossimo, in un referendum, abbia definito Republik una start-up paralizzata che con questi soldi riceverebbe un po' di ossigeno. Come a dire, la concorrenza evidentemente non è gradita. Ma, altra parola chiave, svizzera romanda. Allora, nel 2019, il giornalista Stefan Herzog, in un articolo diceva, titolava il suo articolo La stampa della romandia cade a pezzi. Scriveva, scompaiono i giornali, si fondano le redazioni, si pronunciano licenziamenti. Se andiamo avanti di questo passo, tra poco avremo più giornalisti disoccupati che giornalisti sul campo. Nel 2017, lo sappiamo, scompariva l'Ebdo, nel 2018, le Matin, lasciando per strada 41 persone. Tamedia poi ha riunito, in un'unica redazione, i giornalisti di 24 ore e la Tribune de Genève. Poi, in questo panorama, è rimasta Letton, Letton che era di Ringer. Allora, l'altra parola chiave importante di oggi è fondazione. Perché anche Letton, quando era di proprietà di Ringer, rischiava, da un momento all'altro, di scomparire o di chiudere. Questi erano i rumors all'epoca. Allora, in Svizzera Romanda, cos'è successo? È nata la fondazione Aventinus, nata proprio con l'obiettivo di promuovere e sostenere nella Svizzera francese una stampa indipendente, diversificata e di qualità. Aventinus, nel 2020, ha acquistato Letton e poco tempo dopo anche il sito di informazione online e una vocazione internazionale e a pagamento, Heidi News, che tra l'altro produce anche quattro numeri stampati l'anno. Ecco, quella della fondazione di Aventinus non è un'eccezione. Ci sono diverse fondazioni in Svizzera che corrono in aiuto ai media e che soprattutto sostengono i nuovi progetti, come ad esempio la Stiftung Chiumedien Fielfalt di Basilea. Questa fondazione, infatti, ha già sostenuto Republique con il suo progetto del Foyetton e poi sostiene Bajour con un milione di franchi l'anno per tre anni. In Svizzera, dunque, si sta diffondendo, se guardiamo bene, una particolare attenzione da parte delle fondazioni nei confronti della crisi mediatica del nostro Paese. Non a caso, la Swiss Foundation, sull'associazione mantello delle fondazioni svizzere, proprio un mese fa ha organizzato un'intera giornata con esperti e professionisti dei media per rispondere a una domanda molto semplice. In futuro, se si continuano a tagliare nelle redazioni, se le pagine diminuiscono, la cultura, come arriverà alle persone? Dunque, si parlava in particolare del giornalismo culturale che in Svizzera sembra essere in crisi tanto quanto quello di inchiesta. Allora, anche a proposito del giornalismo di inchiesta, è nata una nuova associazione. Sono tempi davvero particolari, nostri anche molto interessanti. È nato un consorzio, il Pacto dell'Anchette e del Reportage che appunto vuole promuovere le inchieste e il reportage con una particolare attenzione ai giornalisti indipendenti e ai giovani. Nella prima tornata ha già deciso di finanziare dieci progetti per un totale di 52 mila franchi. Dunque, un po' sito di informazione nuovo sempre con sede a Basilea, Reflect, che è un sito di giornalismo investigativo di casa a Berna e nella Svizzera romana abbiamo Bonpore Latet e Heidi News. Vi direte, e quindi sono quasi al termine, ma nella Svizzera italiana non succede nulla? No, anche da noi qualcosa succede. Certo, però c'è da dire che non c'è la stessa vivacità che riscontriamo nel resto della Svizzera, soprattutto per quanto riguarda i nuovi progetti indipendenti. Infatti, sebbene da noi ci siano delle nuove iniziative editoriali, online, come l'Osservatore, i Naufraghi e altre testate, hanno però tutte un punto debole. Non hanno un modello di business forte e strutturato. Cosa significa? Significa che spesso i contributi che vengono pubblicati vengono retribuiti o non vengono retribuiti o vengono retribuiti molto poco. Significa dunque che alla fine sono piattaforme interessanti per stagisti alle prime armi o per giornalisti navigati in pensione che regalano i loro contenuti e le loro opinioni. E da questo punto di vista sicuramente non sono iniziative che fanno bene al mercato e alla concorrenza. Certo, l'altra cosa interessante sarebbe vedere anche qui una fondazione come Aventinus pronta però a sostenere nuove iniziative in questo campo. Per il resto, se guardiamo al nostro panorama, è chiaro, con la chiusura del GDP nel 2018 e del caffè nell'estate di quest'anno, il mercato della stampa ticinese, se togliamo i settimanali della Migros, della Copp e il giornale del sindacato area, l'abbiamo detto, il territorio si divide tra il gruppo del Corriere del Ticino che oggi pubblica diverse edizioni cartacee, non ve le elenco tutte, sicuramente le conoscete, e poi l'altro polo che è quello di Salvioni. C'è il discorso del pacchetto di aiuto ai media che ha le porte, lo abbiamo accennato prima e credo che sia fondamentale per un motivo in particolare. In questo pacchetto di aiuti che si è deciso, sono degli aiuti a un pacchetto di 150 milioni di franchi, 30 milioni vanno ai media, andrebbero ai media digitali. È chiaro che questa somma potrebbe essere molto importante perché se il pacchetto passasse sicuramente potrebbe sostenere diverse iniziative editoriali nuove già sul campo oppure promuoverne di nuove. Non è neanche da nascondere il fatto che se il pacchetto di aiuti dovesse passare sarebbe anche una grande boccata di ossigeno invece per altre testate, cartacee anche, che sono sul mercato da molto tempo e che sono in grave difficoltà. Concludo. I lettori vengono presi in giro, dicevano i giornalisti della redazione del Bund e della Bernard Seidon, quando l'editore appunto ha deciso di unire le due redazioni. D'altra parte, seppur in buona fede una qualità la si volesse garantire, è chiaro, si diriava in tedesco di Rechnung Getnisch Auf. L'operazione non funziona. I lettori non sono stupidi. Non è nemmeno vero che non sono disposti a pagare per l'informazione di qualità. Repubblico, un prodotto di approfondimento, l'abbiamo detto, digitale, chiede un abbonamento di 240 franchi l'anno e conta 29.000 lettori e con la sua campagna di crowdfunding ha raccolto 3 milioni di franchi e lo ha fatto senza presentare il proprio progetto. Cioè, nessun lettore ha visto che cosa stava comprando. Lo ha fatto semplicemente dicendo che il suo giornalismo si sarebbe basato sulla trasparenza, l'indipendenza dei grandi editore e il rapporto di fiducia coi lettori. Oggi la sfida si gioca qui e l'ha detto già Luca De Biase. Non si gioca soltanto sui numeri, il calo della pubblicità o la pubblicità che c'è e nuovi mezzi tecnologici. La partita oggi si gioca su una nuova mentalità e una nuova cultura giornalistica che mette il lettore al centro. Repubblica chiama il suo lettore lettore editore. Un rapporto che ogni testata oggi può decidere di coltivare e promuovere come desidera attraverso i social, le newsletter. Oggi persino l'intelligenza artificiale aiuta in questo campo. Il potere è del pubblico, il potere è dei lettori. Facciamo cose rilevanti per la gente diceva Luca De Biase. Allora io voglio concludere con una citazione di Jill Abranson che nel suo libro su New York Times che ha diretto, un giornale che ha diretto per qualche anno, il suo libro dal titolo Merchants of Truth, The Business of News and the Fight for Facts ha detto quali elementi hanno sempre reso grande la testata. La consapevolezza della necessità di un giornalismo inteso come faro della verità ha guerrito difensore dei fatti, indipendente, e dagli elevati standard qualitativi ma soprattutto un giornalismo che onori l'intelligenza dei lettori. Grazie Natascia Fioretti un quadro quello che ha dipinto non proprio rassicurante ma speriamo nel futuro purtroppo l'intelligenza di un bacio per via la notizia di un bacio Grazie a tutti